Cerchi un modo migliore per comunicare con i clienti e mostrare ciò che offri? Prova l'app WhatsApp Business e il profilo dell'attività. Ecco come fare. Installa l'app WhatsApp Business dal Google Play Store o dall'App Store di Apple. Se già possiedi un account WhatsApp Messenger, puoi trasferire i tuoi file multimediali e la cronologia chat nell'app WhatsApp Business in pochi passaggi. Se sei nuovo su WhatsApp, verifica il tuo numero di telefono per creare un account. Una volta verificato il numero, inserisci il nome e la categoria dell'attività e aggiungi un'immagine del profilo. Quindi tocca Avanti. Ora è arrivato il momento di iniziare a costruire il tuo profilo dell'attività. Usa il profilo dell'attività per presentare la tua azienda ai clienti. Ad esempio, fornendo informazioni su dove trovarti e sui prodotti e servizi che offri. Fai sapere ai tuoi clienti quando sei disponibile. E condividi dettagli come email e account social della tua attività, per far conoscere altri modi per comunicare con te. Le funzioni uniche nel profilo dell'attività ti aiutano a risparmiare tempo ed energia, per concentrarti su ciò che davvero conta. Comunicare con i tuoi clienti, aumentare le vendite e far crescere la tua attività. Esplora il menu Impostazioni attività e trova altri strumenti per la tua attività.